Un piccolo video sulle capacità multimediali del VUTY. Ho scoperto che riesce a reggere i video in formati anche di risoluzione molto elevati, tipo 700x420 o similari. Andiamo ad avviare l'applicazione. Andiamo a prendere un video mitico. Lo potete vedere a tutto schermo, si vedo benissimo. Con i vari comandi per mandare avanti. Si vota in tutta Italia. Gli italiani che si regheranno le urne nelle 76.466 sezioni elettorali per eleggere i 630 deputati e i 300... Vediamo un altro film. Gli italiani che si regalano le urne nelle 76.466 sezioni elettorali per il VUTY. Gli italiani che si regalano le urne nelle 76.466 sezioni elettorali per il VUTY. Gli italiani che si regalano le urne nelle 76.466 sezioni elettorali per il VUTY. Gli italiani che si regalano le urne nelle 76.466 sezioni elettorali per il VUTY. si regalano le urne delle 76.566 sezioni elettorali. Gli italiani che si regalano le urne nelle 76.366 sezioni elettorali per il VUTY. ciao